20 anni fa fu affidato a lei il caso Notorious Big, giusto? Sono giornalista. Perché è così importante per lei questo caso? Un omicidio come questo... resta irrisolto solo se la polizia non vuole risolverlo. Ho letto il fascicolo. Ha dei sospetti. 20 anni e neanche un arresto. Avete sentito che chi ha ucciso Tupac era stato assoldato dall'entourage di Notorious Big? Non è stato Big a farlo uccidere. I fatti indicano che c'è dell'altro. Se troviamo un collegamento tra l'agente e l'omicidio di Big, il dipartimento di polizia crollerà. Per la città sarebbe la rovina. Polizia! Stiamo rischiando spargimenti di sangue nelle strade ogni giorno. Chi ha ucciso Notorious Big? Questa storia poteva finire in un solo modo.